Bentornati sul canale Sono Italiano. Oggi con le ultime notizie come Antonino Spinalbese, noto al pubblico per la sua storia con Belen Rodriguez. Ma sapete che oltre a lavorare come parrucchiere, fa un altro mestiere? L'ex della showgirl argentina guadagna delle cifre assurde, scopriamo quanto. . Antonino Spinalbese, malgrado sia il personaggio del momento, il pubblico sa davvero poco su di lui, dato che è una persona estremamente geloso della sua vita privata. Ultimamente si è parlato della sua recente storia d'amore con Belen Rodriguez con la quale ha avuto una figlia, Luna Marie. I due si sono lasciati da poco e lei è tornata dal suo ex marito Stefano De Martino. Ma oltre a questo, credete di saper tutto su Antonino? Ad esempio, sapete che oltre ad essere un parrucchiere di successo, svolge anche altri lavori? Scopriamo insieme quali. La carriera di Antonino Spinalbese.Classe 1965, nato il primo febbraio alla Spezia. Antonino Spinalbese, noto al mondo della cronaca rosa, per essere stato il compagno di Belen Rodriguez. Dal loro amore è nata anche la piccola Luna Marie. Della sua vita privata sappiamo quasi tutto, ma in pochi conoscono realmente la sua carriera. Punto Antonino, dopo essersi diplomato decide di trasferirsi a Milano dove ha la possibilità di studiare e coltivare la sua passione per l'hairstylist. Dopo poco tempo, grazie alla sua bravura, è arrivato a lavorare per uno dei più grandi saloni della città situato nella via principale di Milano, ovvero quello di Aldo Coppola sul Corso Garibaldi. Ed è proprio lì che conosce tantissimi personaggi dello spettacolo. Successivamente, si dedica alla sua passione per la fotografia, diventando così un fotografo professionista e anche un modello. Grazie alla popolarità per la sua storia con Belen, oggi è un influencer di successo. Ma sapete quanto guadagna? La cifra è assurda. Antonino Spinalbese Quanto guadagna Antonino Spinalbese? Uno stipendio da capogiro. Come abbiamo detto Antonino Spinalbese fa ben quattro mestieri, parrucchiere, influencer, modello e fotografo. Dei lavori che portano un gran guadagno a fine mese. Senza dubbio, il mestiere con il compenso più alto è proprio quello da influencer. Infatti, si arriva a guadagnare fino a 50.000 euro per la pubblicazione di un post. Antonino Spinalbese. Per quanto riguarda il mestiere di hairstylist si riesce a portare a casa anche più di 2 milioni euro al mese. La stessa cifra vale per chi svolge la professione di fotografo professionista. Ricordiamo che Antonino è anche un modello, in Italia, si può arrivare a guadagnare circa 30 euro. 000 all'anno. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao!